Ci troviamo in Piazza Santa Maria qui a Serra Petrona, la manifestazione questa volta è per le moto d'epoca, si tratta della diciottesima rievocazione storica del circuito delle Chienti e Potenza, un classico dalla 24 al 26 che il presidente Pietro Caglini del CAIM, circolo auto e moto veicoli d'epoca marchigiana, ha voluto riportare alla memoria degli appassionati. Questa volta il circuito è di quelli tosti, in passato si coprivano addirittura 8 giri per circa 300 km, questa volta ovviamente si va un po' più per il sottile con due giri circa 74-75 km per i piloti di ora con le moto di allora. C'è anche un'attenzione particolare del presidente Caglini per il sociale, c'è stata qualche istante fa la consegna di un defibrillatore portati all'amministrazione comunale di Serra Petrona per testimoniare l'attenzione che il CAIM rivolge anche al sociale. Siamo con l'assessore del comune di Serra Petrona Barbara Baroni che quindi commenta questo avvenimento. Sì, per noi è sempre un onore ricevere il presidente Caglini con la sua manifestazione, oramai sono 18 anni come hai già detto, è un onore, il sindaco di Serra Petrona mi ha delegata quest'oggi proprio per il mio attaccamento anche alle moto d'epoca, perché mio padre era un grande appassionato di questo per cui sono veramente felice e felice ancora di più per il gesto di notevole importanza che l'associazione ha avuto nei confronti di questo comune per il dono appunto di un defibrillatore portatile di cui questo comune era sprovvisto. Pietro, quindi un bilancio positivo al di là della classifica direi di tutta la manifestazione? Sicuramente sì, un bilancio positivo. Abbiamo toccato il cielo con un dito, nel senso che abbiamo avuto 45-46 equipaggi, cosa che non succede tutti i giorni, equipaggi di un certo pregio, di un certo livello, che non succede tutti i giorni lo stesso. Lasciamo perdere la mia vittoria. Io ho cercato di fare il mio meglio, come faccio sempre, sono contento più per la mia vittoria, sono contento per aver portato ancora nei primi posti questa famosa matchless che abbiamo gratificato in tutta la manifestazione. Per il resto mi pare che altre interviste, altre voci, altre opinioni, diano per riuscito a livello nazionale questa manifestazione e questo diciottesimo circuito di Chiendi e Potenza. Quindi più di così non si poteva fare, secondo me. Abbiamo cercato di forzare la manifestazione, come avrò detto più volte, nell'arco degli anni, e quindi ci hanno riconosciuto che dei 45 presenti c'erano oltre 30 mezzi ante 40, cosa non facile da avere e comunque 41-42 mezzi omologati, cosa difficile da avere.